Ciao a tutti, sono Elisa Cucca e oggi vi farò vedere come funziona l'applicazione Pixlr. Questa applicazione permette di modificare le proprie foto a piacimento aggiungendo dei filtri oppure sovrapponendo ulteriori immagini oppure scrivendo dei testi sulle foto. L'applicazione è disponibile online o per mobile, per App Store e Google Play o per Desktop. Andando su Web App, quindi la versione disponibile online, abbiamo due tipi di profili, quello Express e quello Editor. Quello Express è quello più semplice e intuitivo, che permette di modificare le foto in un modo più, per principianti insomma. Invece la versione Editor è più consigliata per le persone esperte. Ora vi farò vedere un esempio per come si modifica appunto una foto con la versione Express. Abbiamo la possibilità di caricare una foto da internet, copiare un indirizzo, fare una foto da webcam o fare un collage. Io ho preso un indirizzo di una foto da Google, che è questa, un paesaggio. Appena vi si aprirà la foto, possiamo vedere che queste sono le varie opzioni fra cui possiamo scegliere per modificare la nostra foto. Possiamo modificare qualcosa per quanto riguarda la brillantezza, il contrasto o comunque una di queste opzioni qua. Aggiungere un effetto fra questi qua. Aggiungere un ulteriore layer, quindi un'altra foto di background. Un bordo, uno sticker o possiamo aggiungere un testo. Queste sono le principali funzioni dell'applicazione per quanto riguarda appunto la versione Express dell'applicazione, della web app. E niente, spero di essere stata chiara. L'unica pecca che ha questa applicazione che ho notato è che sono presenti le pubblicità sopra. Compaiono le pubblicità di altri siti, però del resto è molto semplice da usare e mi ci sono trovata subito. E niente, ciao.